Spero di non fare una domanda troppo difficile a Davide Albertini Petroni chiedendo di dare voce alla platea. C'è questa ripresa? Le tempistiche quali sono? Si inizia a intravedere? La ripresa c'è sicuramente, dobbiamo però vedere secondo me due diverse, noi abbiamo due settori immobiliari, un settore che vale 9 miliardi come diceva Ilardo, che è il settore non commerciale dove abbiamo visto una forte evoluzione negli ultimi anni, dove abbiamo visto la presenza degli investitori internazionali che in un qualche modo hanno fatto evolvere tutta la nostra comunità perché si sono sviluppate società di service providing, società di asset management, hanno portato alla creazione di nuove società immobiliari che è qualcosa di assolutamente utile per il nostro settore perché ancora noi scontiamo un sistema immobiliare quotato molto sottile rispetto agli altri paesi. Poi invece abbiamo un altro settore che a mio giudizio rappresenta il futuro che è tutto il settore residenziale che vale 90 miliardi mal contati dove noi abbiamo solo il 20% transato in maniera professionale, contrariamente a tutti gli altri paesi europei e non, dove siamo a mio giudizio all'anno zero dove solo il 5% è costruito negli ultimi 10 anni e più del 50% oltre i 50 anni, dove abbiamo avuto sicuramente delle agevolazioni fiscali che hanno permesso la ristrutturazione delle residenze ma abbiamo uno stock abitativo vecchio non solo in termini proprio di efficienza ma anche in termini proprio di bene adatto alle esigenze di una nuova domanda. Allora noi abbiamo due grandi trend, uno è questa innovazione tecnologica che dobbiamo sicuramente gestire e poi una evoluzione o chiamiamola una nuove dinamiche sociali e demografiche che dobbiamo anche queste gestire. Sono uscite delle ricerche, avremo nei prossimi 10 anni a Milano 350 mila nuovi residenti, circa 110 mila famiglie nei 10 anni, quindi sono 10 mila famiglie che arrivano su Milano. Nel decennio precedente queste nuove famiglie erano al 50% italiane e 50% straniere, nel prossimo decennio saranno all'85% straniere, quindi significa che avranno bisogno di case diverse. Noi abbiamo sempre costruito delle case per la famiglia italiana che ha delle esigenze, del modo di consumare l'abitazione diversa rispetto a una famiglia straniera, quindi dovremo fare case diverse, quindi dovremo affrontare un modo diverso nel costruire case. Il nostro problema è che costruiamo poco e quindi riadattiamo e risistemiamo uno stock abitativo che è già vecchio in partenza e questa è la nostra sfida, nel senso che dobbiamo proprio cambiare il paradigma sul residenziale che vale, ripeto, 90 miliardi rispetto ai 9 del sistema non commerciale, quindi ci siamo evoluti su un settore non residenziale e dobbiamo incominciare a evolverci nel sistema non residenziale. Io resto sulla scena della sopravvocazione con Albertini Petroni per chiederle quali strumenti dobbiamo mettere in campo allora per riuscire in qualche modo ad andare veloci quanto il mercato chiede oggi? Perché secondo me qui si parla di sopravvivenza, non solamente di innovazione. A mio giudizio è un approccio diverso, la tecnologia ci viene in aiuto, ci dà tutta una serie di strumenti e tutta una serie di informazioni, un flusso di informazioni maggiore, una velocità di informazioni maggiore e ci vuole un approccio diverso, tutto questo flusso di informazioni ci dà una conoscenza nei vari settori, tutti i settori, immaginiamo quanto abbiamo lavorato per avere la conoscenza dei clienti nei centri commerciali, abbiamo una quantità di informazioni che però non possono essere appannaggio di un soggetto unico sia che questo faccia parte del sistema professionale o delle imprese di costruzioni o delle società immobiliari. Quindi ci vuole un approccio più integrato fra le varie filiere in maniera tale che si crei veramente la comunità nell'approccio di un progetto che sia di sviluppo che sia di riqualificazione urbana ed altro, quindi un approccio integrato, un'analisi delle informazioni che riceviamo, quindi un approccio più industriale all'immobiliare, analisi del mercato, buona progettazione, analisi del prodotto, segmentazione del mercato, quindi se vogliamo ritorniamo a diventare un'attività industriale dove il prodotto non era, diciamo il sottostante era un pochino sottovalutato, invece deve essere maggiormente studiato, analizzato, capire quali sono le nuove domande perché come diceva giustamente Emanuele, la domanda sta cambiando. Noi siamo per definizione un'attività di lungo termine, vuoi perché ci mettiamo tanto a avere i cambiamenti di destinazione, d'uso ed altro, vuoi perché ci mettiamo tanto a progettare, vuoi perché ci mettiamo tanto a costruire, c'è un fabbricato ci metti 18 mesi, 15 mesi, fare una scarpa ci metti molto meno, quindi è chiaro che per definizione noi siamo un'attività di lungo termine in un mondo che cambia velocemente, quindi la nostra sfida vera è quella di cercare di capire, di anticipare i tempi e lì lo dobbiamo fare attraverso lo studio, le analisi del mercato, un po' di intuizione, però con un approccio integrato multidisciplinare, questo secondo me è una sfida che dobbiamo cogliere. Noi abbiamo tentato di dialogare proprio su queste tematiche, mi sembra siano venute fuori diversi posizioni con stima dei relatori che si conoscono da tanto tempo, per tirare un po' le fila torno da lei, per chiederle oggettivamente qual è secondo lei il primo ostacolo, il primo obiettivo da superare per arrivare a immaginare il mercato di domani, perché bisogna immaginarlo oggi, come diciamo, tempistiche sicuramente lunghe, è l'investimento di lungo termine del fondo immobiliare. In termini di prodotto, anche quando parlavamo del mondo. La prima cosa che dobbiamo fare è cercare di aumentare il mercato domestico, come dicevamo prima, aumentare il numero di società quotate, riportare la gente a investire nell'immobiliare, magari non direttamente ma attraverso forme un po' più strutturate e avere, su 9 miliardi e mezzo, di transato sul commerciale, non avere il 70-80% di investitori internazionali, ma ritornare ad avere gli investitori italiani. Investire nel residenziale, come abbiamo detto, e portare degli investitori istituzionali nel residenziale, che evolve il mercato, fa evolvere il mercato. Quindi noi dobbiamo aumentare la visibilità del mercato domestico del nostro mercato italiano, perché, e ovviamente aumenta la visibilità, possibilmente facendolo attraverso società quotate, perché sono quelle che vengono guardate a livello internazionale dagli investitori, e quindi a quel punto poi facilitiamo l'ingresso nei vari asset class, che incominciano ad essere diversificati, perché non ci sono più solo gli uffici, non c'è solo più il centro commerciale, incominciano ad essere diversi asset class, gli student housing, il senior living, perché visto l'invecchiamento della popolazione, abbiamo talmente aumentate le diverse tipologie di investimento, dobbiamo partire prima noi, creare il nostro mercato domestico, e poi arriveranno anche su queste asset class gli investitori istituzionali internazionali. Grazie. 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 Grazie.